Vai Loris Loris che ci appresta Eeeh Vincolo Ma che cazzo fai No, non lo faccio No, non lo faccio Non lo faccio No, non lo faccio Cazzo non lo faccio Eeeh Vincolo Le mani sulle orecchie perchè vuole sentirmi ragazzi 10 secondi 10 secondi Eeeh Vincolo Eeeh Vincolo E infatti Switch Solid Transfer per lui Come se non descrivano E fare le cose come un pancino e di celeste 360 Flip transfer ragazzi Che tocca Eeeh Easy Riders E altrimenti non è che la situazione sportiva dei ragazzi Indy transfer intanto per Max In questo momento 20 secondi a sua disposizione Vediamoceli tutti Prozza i flip Ragazzi non ne molla una Poi Yeah Buon slide sul passamano Un saluto a questi due simpatici motociclisti Vediamo qui Poi Ooooooooooo Poi Guardate qui Poi E' il strike per Lollo Grazie così 20 secondi Mentre Emanuele e Mariotti si preparano a partire E' Stefano Eeeeeee E' Eeeh E' Robip Giù per terra in volta Il nostro pubblico è contento così per Emanuele in apertura poi Dexai Nolli e 50-50 wrong side flip ragazzi che run impressionante fino ad ora 50-50 in back side per Emanuele Mariotti una serie impressionante non sono passati neanche 30 secondi è ancora un board slide ragazzi prepariamoci a spellarci le mani se non chiude dai Emanuele oh kick clip board slide Tuffeghi e ha un sentito a cielo e direi meritatamente Emanuele Mariotti bolle 180 bravo indi transfer sentiti Tuffeghi anche lui non dovrà essere da meno un applauso per Dona in finish 12 secondi 30 secondi scelizio transfer e in credo che non dovrà essere da meno che che che